Schio, una persona arrestata, due quelle denunciate e sequestrati complessivamente circa 5 kg di droga varia. È il bilancio dell'ultimo blitz della polizia locale Alto Vicentino. Gli agenti hanno così concluso una perquisizione e un condominio nei pressi della stazione ferroviaria, dove dal novembre scorso avevano monitorato e documentato un fiorente attività di spaccio. Lo scorso mese la procura di Vicenza ha autorizzato la perquisizione che è scattata ieri mattina. La droga è stata ritrovata nell'abitazione grazie anche al fiuto dei cani dell'unità cinofila a supporto dell'operazione, che ha permesso il sequestro della droga per un valore complessivo sul mercato di circa 100.000 euro e al sequestro di denaro contante per un totale di quasi 3.000 euro, probabile provento di spaccio. Il responsabile di questo vero e proprio bazar della droga sarebbe un 42enne di Schio, che è stato arrestato e ora dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In concorso per gli stessi reati sono stati denunciati due familiari dell'uomo che, a seguito dei pedinamenti e la ricostruzione dei contati degli inquirenti, avrebbero aiutato attivamente il 42enne nella sua attività illecita. I quantitativi di sostanza stupefacente rinvenuti e sequestrati dimostrano l'importanza dell'operazione. Speriamo che per qualche tempo di avere calmato il mercato degli stupefacenti dell'Alto Vicentino.